Salve, oggi parliamo del corpo digitale. Yahoo ha ammesso qualche giorno fa che nel 2014 i gnoti le hanno sottratto, rubato, 500 milioni di dati riguardanti i suoi utenti. Mezzo miliardo di corpi digitali che erano trattenuti in ostaggio nei suoi server e usati per chissà quali scopi. Non c'è da meravigliarsi. Nonostante il teatrino sulla difesa della privacy, nessuno difende i nostri corpi digitali, anzi tutti siamo incitati a costruirli e a metterli a disposizione di gnoti. Del resto da qualche anno l'accesso a internet a banda larga è diventato un servizio indispensabile come l'acqua, il gas, l'energia elettrica. Ormai prima di andare in vacanza o addirittura prima di andare al ristorante e qualcuno chiede «ma c'è la DSL? C'è Wi-Fi?» e se la risposta è negativa commenta «eh no, è come non avere la toilette, non vengo». Dovunque assistiamo al bizzarro spettacolo di umani intenti a osservare gli schermi dei loro smartphone, dei loro tablets, dei loro PC, portatili che spingono minuscoli tasti e si connettono alla rete. Ormai quasi ogni adolescente è abbandonato dagli adulti al suo viaggio solitario nella rete. In Asia, Africa, Sud America, centinaia di milioni di umani hanno accesso a quella che si chiamava la cultura generale grazie alla rete. Uomini e donne che non erano mai andati al cinema o non avevano mai visto la TV, oggi hanno il primo accesso al mondo esterno grazie alla digitalizzazione di massa. È una manifestazione collettiva che per molti versi, nei casi migliori, esprime libertà, libertà di scelta, di conoscenza, di espressione. Ma la libertà raccontata nel secolo scorso, quella libertà per la quale molti sono morti, in realtà non esiste più. Bisogna cominciare a riflettere seriamente su questo. La libertà in rete è bivalente e ogni sua manifestazione rimanda al suo contrappasso, cioè al controllo da parte di qualcuno, ignoto. Siamo tutti finiti in un enorme labirinto. Ci muoviamo dentro il bipolo libertà controllo, incessantemente, senza averne una vera consapevolezza. Più si cerca visibilità per aumentare la propria immagine, magari anche con finalità utili alla collettività, più si è esposti. Più si aumenta Google, Facebook, Twitter, YouTube, più si fanno telefonate, email, SMS, più ci si espone al bipolo libertà controllo. E inoltre, il cosiddetto terrorismo ha giustificato il controllo di massa. Sappiamo che i motori di ricerca, tra cui appunto Yahoo, Google, i social network, devono, in ottemperanza alle leggi americane, fornire i big data ai servizi di intelligence. Sappiamo che ogni conversazione telefonica può essere registrata. Di questo si è scritto e detto abbondantemente e inutilmente. Ciò che non conosciamo, però, ancora, è un aspetto rimasto in ombra. Mentre usiamo i servizi digitali, noi produciamo inconsapevolmente un alone. Un alone fatto di immagini, di testi, di audio, di foto, che vanno a costituire un corpus molto diverso dal corpo fisico al quale eravamo abituati nel corso dei secoli. È un corpus digitale. Un cybercorpo. Un corpo in cui la soggettività individuale si scompone, in cui la velocità, lo spazio e il tempo sono diverse da quelle del mondo materico. Un corpo che sconfine in un'altra dimensione. Una dimensione fatta di bytes, di dati, che in qualche modo non solo ci rappresentano, ma coincidono con noi. Quei dati siamo noi. Questo corpus digitale viene preso in ostaggio e affidato a nostra insaputa a qualcun altro. Istituzioni, polizia, intelligenza industriale, case farmaceutiche, agenzie di pubblicità, eccetera. E tutti costoro, dopo essersi appropriati del nostro corpus digitale, cominciano ad esercitare, grazie ad esso, un controllo reale sul nostro corpo fisico. Noi siamo tutti schedati, tracciati, targhettizzati, orientati verso stili di vita che fanno comodo, al dunque, solo ad altri, ai padroni universali. Si sta verificando una cosa impensabile. Impensabile fino a 30 anni fa. Noi contribuiamo al nostro controllo ogni volta che cerchiamo di esercitare le nostre libertà grazie alla rete e al telefono. Che fare dunque? Come sottrarci a tutto ciò? La soluzione attualmente appare impossibile. Nessuno può fare niente. I parlamenti e le magistratura si dichiarano impotenti. Siamo impotenti. Basta leggere attentamente i termini e le condizioni imposti dai social network ai propri utenti per capire che siamo nelle mani delle grandi companies digitali che a loro volta lavorano per altri poteri occulti. In un recente forum sulla governance globale di Internet, alcune rappresentanze più consapevoli della società civile, associazioni volontarie di cittadini e consumatori, chiesero ufficialmente ai governi nordamericano e inglese di interrompere la sorveglianza di massa e attesero una risposta. Definite il concetto di sorveglianza di massa, risposero un paio di ministri presenti al forum, perché non si rinviene in alcun trattato internazionale e quindi non siamo in grado di valutare. Se poi, aggiunsero i ministri, con queste parole si intende quanto narrato da George Orwell nel suo libro 1984, allora siamo nella fantaletteratura. Per certi versi, purtroppo, è vero. Gli abitanti del pianeta Terra si sono addentrati, ignari e felici, in una nuova dimensione, una cyber vita che comincia ad avere connotazioni fantascientifiche, fantaletterarie e non possono più sottrarsi a tale percorso. Perché? Perché l'accesso alla rete è diventata una utilities, è come l'acqua, come il gas, come l'energia elettrica. Se non altro prendiamone coscienza e insegniamolo alle nuove generazioni. Altrimenti dovremo abituarci anche ad ascoltare storie come quella recentissima della ragazza che si è suicidata perché qualcuno, ancora ignoto, ha fatto circolare i suoi video hard e la parte più giurassica del web, perché purtroppo c'è anche questa, ha fatto scempio del suo corpo digitale. Lei non era in grado di prevederlo. Tanta salute e tanta fortuna a tutti. Glauco Benigni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.